Evocano leggendari momenti all'Indiana Jones, ricordano pallide fanciulle che, con i polsi legati, paralizzate dalla paura, vedono strisciare lungo la coscia lei, che si muove elegante, pronta al morso, che nei film, grazie all'eroe di turno, non arriva mai. Per me sono tutte belle, dal classico ragno oscuro senza colori al più colorato in assoluto, perché sono un appassionato, sono veramente, non dico innamorato di queste cose, ma... Sono belle. Nelle case degli italiani vivono attualmente 50.000 iguane, 20.000 pappagalli e 10.000 serpenti. A casa di Davide, che abita a Udine, vivono 14 ragni giganti adulti e una ventina di ragnetti appena nati. Noi siamo venuti a conoscerli. Questa è una passione che mi è venuta su quando avevo 8-9 anni. Come hai capito di avere questa passione? Perché li portavo in casa, li portavo dentro in casa, li andavo a prendere negli arbusti, li andavo a prendere nei prati, li portavo nei fiori di casa o nella terrazza di casa per vedere far crescere le tele e poi gli davo da mangiare le formiche. Con grande felicità di mamma Porzia prima e di sua moglie Sandra poi, che si dice anni fa, si è vista arrivare in casa la prima bestiola con otto occhi e otto zampe. Quando è arrivato il primo ero un po' sballordita più che infastidita, nel senso che le sue dimensioni erano assolutamente inoffensive. Certamente l'idea di avere un ragno in casa non è che sia una cosa molto comune. Questa è la Smithy. Questa è la Smithy, questa qua è un brachiferma misichiano, vediamo se riesco a farla venire fuori. Il morso della tarantola non è letale per l'uomo, può provocare una reazione simile a quella causata da una puntura di un calabrone, ma meglio non stuzzicarli. Mai andare a stuzzicarli con le mani, però come si vede un ragno, eccolo qua, un ragno prima di mordere, ecco, la sto accarezzando, prima di mordere, ce ne vuole, ce ne vuole. Le piace essere accarezzata? Non credo. I ragni sono animali cannibali e mangiano ogni 15 giorni. Questi faranno una brutta fine. Purtroppo questo qua è il cibo vivo, la natura è così, non ci possiamo fare assolutamente niente. Il cibo vivo sono grilli, a seconda di quando un ragno diventa di dimensioni maggiori, un grillo del genere per una bestia adulta non gli fa niente praticamente. Allora bisogna andare con qualcosa di più corposo, delle blatte, degli scarafaggi che vengono dal Madagascar, che sono qua dentro. Gli classici animali che vengono usati in tutti i film per far spaventare la gente, queste qua. Fischiano. Questo è un maschio, ha la corazza. Ecco, queste qua purtroppo sono il cibo per le tarantole quando sono adulta. Io le do queste qua. Sono passi di tarantola, a me sembrano un certo. Quando uno muore? E quando uno muore a me si pensa il loro ciclo naturale. Finiscono là. Finiscono là. Ecco, quando muoiono io ho piano piano a furia di fare delle prove, sono riuscito a trovare il sistema anche per imbalsamare. Allora, le tarantole anche 15 anni vivono. Ma è carina questa storia della tarantola che vuole il cibo autoctono, perché solo le blatte del Madagascar, quelle nostre, non le degna di uno sguardo. Magari alla fine per fame le prenderebbe anche quelle. Ormai è cresciuto un enorme business intorno a questi animali. Sono diventati al quarto o quinto posto fra gli animali da compagnia. Tutto l'insieme è composto da lucertole, serpenti, rane. Per esempio ci sono queste rane coloratissime che, pensate, vengono utilizzate dagli indios dell'Amazonia per avvelenare le punte delle frecce. Sono una sostanza mortale. Da noi diventano innocue perché non hanno più quella situazione ambientale che le fa diventare tossiche. E sono coloratissime, sono tenute dentro casa. Sono al quarto o quinto posto fra gli animali da compagnia. Solo che, ne parlavamo, è un rapporto ben diverso. Al primo posto ci sono i cani. Ci sono i cani, ma se la battono con i gatti. Al terzo posto ci sono gli uccelli. Gli uccelli in questo periodo stanno vivendo un po' un momento di ribasso, perché il famoso canarino, che era la compagnia di tante persone anziane, che stava nella sua gabbietta e cinguettava, sta un po' scomparendo. Però in compenso ci sono aumentati i pappagalli moltissimo. Che poi vengono liberati, infatti Roma è piena di pappagalli. I parchi di Roma. Anche i criceti, anche i roditori ce ne sono tanti. Quindi diciamo sicuramente abbiamo cane, gatto, uccelli, roditori, fra cui pur non essendo un roditore mettiamo anche il coniglio che sta diventando molto diffuso, e poi questo gruppo ormai eterogeneo ma importante di retti, anfibie e invertebrali.